170 droni e 150 missili. Sono questi all'incirca i numeri dell'attacco portato dall'Iran verso obiettivi militari in Israele nella notte tra il 13 e il 14 aprile 2024. Pensate che per difendersi Israele e i suoi alleati hanno speso l'equivalente di oltre un miliardo di dollari nel giro di poche ore, tra armamenti e forze armate coinvolti. Lo sforzo però ha pagato e la maggioranza di questi droni e missili è stata intercettata dalle forze armate israeliane, in particolare da sistemi di intercettazione chiamati Arrow e IronDome. In particolare su IronDome abbiamo fatto proprio un video ad hoc dal punto di vista tecnico, per cui se siete interessati vi consiglio di recuperarlo. Colgo anche l'occasione se non siete iscritti al canale per invitarvi a iscrivervi. A voi basta un click ed è gratis, ma per il nostro lavoro è di enorme importanza. Grazie mille. Per difendersi dai droni e dai missili iraniani le forze armate israeliane non sono bastate. Israele è stato aiutato da Stati Uniti, Regno Unito e Francia, ma ha ricevuto anche il supporto ad esempio di paesi come la Giordania e più indirettamente l'Arabia Saudita. L'obiettivo militare principale dell'Iran e dei suoi alleati, contate che droni e missili sono partiti anche da Yemen, Iraq e Libano, è stata la base militare israeliana Nevatim o Nevatim, situata nel sud di Israele. Ed è proprio questa base la struttura che alla fine ha riportato i danni maggiori, anche se è già tornata operativa. Ma perché l'Iran ha puntato soprattutto questa base? Beh, la risposta si collega alla motivazione principale dell'attacco. A questo proposito la prima cosa da dire è che l'Iran si è mosso in risposta a un altro attacco, israeliano. Il primo aprile 2024, infatti, dei caccia F-35 israeliani, partiti secondo l'Iran dalla base di Nevatim, nevatim, hanno colpito con dei missili il consolato israeliano a Damasco, la capitale della Siria. Ecco, attenzione, secondo una certa interpretazione del diritto internazionale, attaccare un'ambasciata o un consolato di un paese è come attaccare il suolo effettivo di quel paese. Ma anche se così non fosse comunque, ambasciate e consolati godono di inviolabilità e immunità. In questo raid, peraltro, hanno perso la vita alcuni importanti esponenti delle forze armate iraniane. Insomma, per l'Iran l'attacco del 13-14 aprile è stata un'azione dovuta sia di fronte alla propria opinione pubblica, sia di fronte alla comunità internazionale. Si è trattato inoltre di un modo per testare i sistemi di difesa israeliani. Peraltro non è stato nemmeno un attacco a sorpresa. Tutti i principali attori internazionali sapevano che sarebbe avvenuto, in un momento o nell'altro, a partire da Israele e dagli Stati Uniti, che infatti erano pronti alla difesa. A questo punto potreste chiedervi, ma perché allora Israele ha attaccato il consolato iraniano a Damasco? Ci sono vari motivi. In sintesi, da un lato perché l'Iran sostiene economicamente e militarmente gli avversari di Israele, per esempio Hamas in Palestina, Hezbollah in Libano e gli Ikuti in Yemen. Dall'altro perché il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e una parte politica di Israele, non tutto il paese, potrebbero volere un allargamento del conflitto israelo-palestinese a zone più ampie del Medio Oriente, sperando così di mantenere le redini del paese e di obbligare i propri alleati internazionali, in primis gli Stati Uniti, a inviare più aiuti o addirittura a scendere in campo. L'occupazione israeliana di Gaza, successiva agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, infatti, che ha provocato purtroppo migliaia di vittime civili, non sta dando i frutti sperati dal punto di vista israeliano. Hamas in sostanza si è dimostrata sostanzialmente impossibile da eradicare e ci sono tantissimi profughi che non sono ricollocabili altrove. Netanyahu spera perciò di riuscire a ottenere qualche risultato tangibile di vittoria e di non perdere la propria carica. Così ecco che, tra le altre cose, potrebbe star provando ad allargare il conflitto. D'altro canto, la rivalità tra Israele e Iran non nasce ieri. Va avanti da decenni e in passato ci sono stati tanti altri momenti di tensione e scontro. Pensate che vari esponenti politici iraniani nel tempo hanno dichiarato in più occasioni di voler cancellare Israele dalle carte geografiche. Dichiarazioni molto forti, ovviamente, associate alla volontà dell'Iran di dotarsi dell'arma atomica, che peraltro Israele già possiede. C'è però da dire che non si era mai arrivati a uno scontro così diretto come quello avvenuto negli scorsi giorni e settimane. Le ragioni di questa rivalità sono molte, ma dal punto di vista geopolitico possiamo sintetizzare la situazione così. Israele e Iran, che ricordiamolo è l'antica Persia, quindi uno stato che ha un grande passato imperiale, dicevo Israele e Iran sono due potenze rivali che si contendono aree di influenza e di potere in Medio Oriente, avendo interessi diversi, culture diverse, religioni diverse, finiscono per entrare in conflitto. Non solo, negli ultimi anni Israele è riuscita a stringere legami sempre più stretti con altre potenze regionali, ad esempio l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che sono a loro volta rivali dell'Iran. E aggiungiamoci infine che Israele è alleata degli Stati Uniti e più in generale dell'Occidente, che hanno posto l'Iran sotto pesanti sanzioni. Insomma, come spesso accade, la questione è intricata, stratificata e complessa e affonda le sue radici in tantissimi ambiti, in primis nella storia. Ora, che cosa potrebbe accadere adesso? In seguito all'attacco iraniano, la comunità internazionale si è mobilitata per timore di un allargamento del conflitto. Gli Stati Uniti, pur essendo alleati di Israele, hanno detto che non sosterranno in alcun modo un contrattacco israeliano all'Iran. Non solo. Gli USA sosterrebbero con favore anche un cessato il fuoco a Gaza, se fossero garantite certe condizioni. Anche altri attori internazionali d'altro canto, come Cina, Russia, Egitto e Turchia, si sono dichiarati preoccupati per una possibile escalation del conflitto. Ma è invece Iran e Israele? Beh, i massimi esponenti politici iraniani hanno affermato che per loro la questione è chiusa, sempre che Israele a sua volta non contrattacchi. Mentre il governo di Benjamin Netanyahu ha invece affermato di volersi vendicare, ma non nell'immediato. Alla luce di queste dichiarazioni, gli scenari possibili possono essere vari. Quello ovviamente in cui un po' tutti speriamo è che Israele non risponda così che si possa evitare un allargamento del conflitto. Gli stessi Stati Uniti cercheranno di fare pressione perché la situazione si raffreddi in qualche modo, dato che nel frattempo sono più o meno indirettamente coinvolti anche nel conflitto russo-ucraino e nel contenimento della Cina. Una seconda opzione potrebbe essere invece che Israele scelga, magari non subito, di rispondere all'attacco iraniano. Può farlo alzando ancora l'asticella, il che però potrebbe portare a una guerra aperta, oppure in modo più simbolico diciamo così, includendo tra i propri obiettivi magari soprattutto le milizie di Hezbollah in Libano o gli Houthi in Yemen. In ogni caso, qualunque cosa accada, Geopop sarà qui a raccontarlo. Ragazzi, spero che questa ricostruzione lampo vi sia piaciuta. Naturalmente ci sarebbero stati tanti altri elementi da approfondire, ma in un video scritto, girato e montato in otto ore abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Mi raccomando poi, cerchiamo di essere pacati e rispettosi nei commenti. Vi odio in giro, ce n'è già abbastanza. Grazie mille di averci seguito e ci vediamo in un prossimo video sempre qui su Geopop. Ciao!